E' freddo qua, sta meglio in campo, ma come fate a stare seduti in panchina poi? Perché sudate quando c'è riscaldamento e rimanete caldi. Sempre guardate lì fermi in panchina perché non fate. Sì, ma perché abbiamo tutta la termica. Eh, quello è vero. Davide, Davide non so come si fa, ma anche tutti gli altri. Ieri 2-0? Ma cambierà lo stesso? Ieri 2-0? No. Non c'è, ma non c'è, non c'è. Si è fatto male Ma gli ha detto Giorgio 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 Cosa è arrivato? Ciao 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 Comunque voi ditemi quello che volete Ma voi avete l'ansia da campionato Eh? Avete l'ansia da campionato Ma in generale avete l'ansia Da campionato perchè avete iniziato Con la tua stessa meglio che con il campionato Quando ci siamo Davide, veramente ancora un po' Non sono neanche coincente Ma a te va bene, ma lascia stare In generale c'è un po' di ansia da campionato Allora Dopo ogni minuto qua C'è solo il video per cercare la prova Tiro solito da lontano Ma ormai Ma io direi che forse le luci le ha il giusto accendere Un po' buio, no? Come ti traccia qua? No, è scuola Si, qua Si, qua Si, no, è forte Con tre si vince tutte Poi, poi, i piedi ce li ho buoni E i segni a farmi Non è forte No ma potessi Non lo hanno fatto Poi, quando l'hanno un capito... La traverso ha fatto vittura La vittura una m France Si, ora Ma potessi No ma potessi Ah, perché ho un po' di ansia Ma potessi Ciao ciao Buongiorno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.